Il prossimo aprile ci sarà di nuovo SpaceUp Challenge, questo fine settimana di sfida dove giovani, anche non giovani, da tutto il mondo, per un fine settimana si mettono in gioco per trovare delle soluzioni a dei problemi posti dalle agenzie spaziali internazionali. Vi invito quindi a partecipare numerosi a SpaceUp Challenge, ho avuto la possibilità di partecipare, di essere presente a Roma nel 2013 ed è stato un fine settimana entusiasmante in cui veramente ho percepito la presenza di tanto talento, tanta passione e tante idee, quindi vi prego non mancate a SpaceUp Challenge 2016.